Scusa, a Brughiere non c'è nessuno. Oh no. No, qualcuno c'è. Ma che cazzo erano questi? No, qualcuno c'è. No, qualcuno c'è nessuno. No, qualcuno c'è nessuno. C'è nessuno. No, qualcuno c'è nessuno. No, qualcuno c'è nessuno. Ma non ho visto da dove, quindi... Fa lanciare altri se lo vuoi da me. No, qualcuno c'è nessuno. Ma... ma sono Sergio lì in fondo? No, qualcuno c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Mi, avevo sollo? Anko ora? No no tu mis stable, proté? Io laago, compåttu. Tänä sa number. Vai nea sentudelesu. Ma... Che stanno? Non mi entra un colpo ovviamente 20% dei pacchetti persi e il colpo mi deve entrare Chi sti Chi sti Chi sti è scattita pesciolino è scattita pesciolino uno nascato ma la mia 49 vai vai tanto bianco bianchissimo pure l'amico non lo so è qua bianco c'è anche un po' po' per te eh vabbè io sto lanciando la granata e me lo prendo va cazzo l'aggo non cammino facendo tiltare vabbè io l'ho preso lanciare altri da eh io pure eh sono pieno di colpi sono sti guardando bene non ho i 4 flopper se hai colpi di qualcosa dimmelo eh ma non più di tanto sta meglio qua Allora 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 Mamma mia com'è cazzo si gioca così non lo sai Allora 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 Allora